La domanda che nasce spontanea è come mai da più anni uno decide di fare lo sponsor di determinate manifestazioni? Ogni anno mi chiedo, anche io, non è che ogni anno mi fregono, in qualche maniera la scusa la trovo sempre, insomma, di fare lo sponsor. La risposta è stata abbastanza franca, ogni anno mi fregono, ma non è vero perché l'attività di Marco è ben radicata a Bastia Umbra, ricordiamo la pizzeria La Gargotta che adesso c'è anche il nuovo punto vendita. No, punto vendita nel so, perché adesso... L'altro punto vendita è distribuzione dei prodotti che produciamo noi direttamente. Che è zona Umbria Fiere, ok? Quindi invitiamo anche i ragazzi che parteciperanno, che già vengono, comunque sia anche al nuovo locale, no? Perché ricordatevi che queste manifestazioni vengono fatte anche grazie agli sponsor, perché senza Lilleri... Grazie a tutti, ok? Grazie a tutti! È stato che ci sei, fai bene chi lo sei Grazie a tutti